È un buon periodo per parlare di tanti temi che stanno in un qualche modo emergendo e finalmente ognuno di noi può toccare con mano e non solamente nella teoria tutte queste tematiche, quindi approfitto di questi tempi in cui mi vengono fatte diverse domande. Una di queste è la rottura degli schemi. Allora, la rottura degli schemi è un qualche cosa che richiede dentro di noi una morte. Ogni volta che uno schema mentale emotivo con cui noi reagiamo, con cui noi guardiamo il mondo, con cui noi viviamo le situazioni della vita, deve cambiare, si deve trasformare, noi viviamo una morte. Spesso dico alle persone che vengono da me che sono quasi più dolorose le morti degli ideali, delle idee, degli schemi con cui noi vorremmo incastrare il mondo perché siamo alla continua a ricerca della sicurezza come i bambini. Sì, perché noi siamo bambini anche da adulti e il diventare adulti richiede vivere la perdita, vivere la morte. E non sto parlando della morte fisica, non sto parlando della morte nel senso dei lutti che inevitabilmente tutti dobbiamo vivere prima o poi, ma sto parlando delle morti interiori. Ora, noi veniamo al mondo e, come diceva Freud, il nostro cervello è una tabula rasa. È vero che il nostro cervello è una tabula rasa, come le neuroscienze oggi ci confermano, ma è anche vero che questo cervello che viene scritto nelle neuroscienze hanno scoperto che mentre prima si pensava che erano i primi sette anni di vita in cui venivano scritti i nostri circuiti neuronali, quindi i nostri schemi con cui guardiamo il mondo, oggi si sa che sono i primi tre anni di vita. Quindi pensate quanto tutto questo ha radice nel nostro inconscio. Ma che cosa accade? Jung ci conferma invece che, nonostante il nostro cervello sia una tabula rasa, la nostra anima, ciò che portiamo dentro non è una tabula rasa, ma ha già dei semi, ha già delle informazioni che poi vengono attivate dalla famiglia che noi abbiamo scelto, in cui viviamo, dal sociale, dal collettivo eccetera eccetera. Di conseguenza questi schemi, quando noi siamo piccoli, ci servono per creare dei modelli nel nostro emisfero sinistro, che sono i modelli con cui noi guardiamo il mondo, che sono i modelli di sopravvivenza fondamentalmente. Cioè se io so che se metto la mano dentro al forno caldo mi brucio, c'è un modello dentro il mio emisfero sinistro che dice non mettere la mano dentro a quel forno perché brucia, ok? Ma vi faccio un esempio. Se io da piccola ho messo una mano nel forno bollente, mi sono bruciata talmente tanto che mi sono stionata la mano e ne ho sofferto, quando sarò grande è possibile che ogni volta che io veda un forno mi si riattivi la paura e il ricordo emotivo di quell'evento. Ora vi sto facendo l'esempio del forno ma questo vale veramente per tutte le cose, per le relazioni, per le situazioni che ho potuto vivere. Il nostro cervello, la nostra amigdala registra tutto quello che è accaduto, gli odori, i sapori, i colori e il tipo di luce che c'era. Quindi noi queste regressioni, come vengono chiamate in psicologia, si attivano nel momento in cui qualcosa mi ricorda un evento che io potrei aver rimosso e messo nel mio inconscio e quindi non comprendere che cosa mi accade, perché mi viene la tachicardia se vedo un cane che abbaglia o un uomo vestito in un certo modo che mi si avvicina o uno sguardo in un certo modo che mi guarda. Quindi questi schemi vengono creati per proteggerci. Faremo un altro video rispetto al funzionamento emotivo del nostro cervello. Queste sono piccole pillole, ovviamente queste tematiche possono essere altamente sviscerate e approfondite. Quello che accade è che questi schemi che mi hanno salvato la vita e mi hanno permesso di appartenere alla mia tribù, cioè alla mia famiglia. Se mia mamma era tanto religiosa, per essere vista da lei sono dovuta andare a messa, per esempio. Se mia mamma era tanto dedita alla cucina, per quanto possa piacermi o non piacermi, però lo facevo con lei e quindi ha un livello affettivo quello schema di cucinare la domenica magari. Se mia mamma o mio padre esigevano un certo tipo di modalità o io vedevo da loro un certo tipo di modalità, per aderire, per essere appartenente e meritevole del loro sguardo, quindi attenzione, amore, affetto, riconoscimento, io ho imparato a fare in quel modo lì. E io creo schemi mentali e nel mio cervello si creano, si raggruppano i neuroni insieme che formano un circuito che permette quel tipo di schema di pensiero. Ma non solo un pensiero mentale, ma anche un pensiero emotivo. Se io vivo e cresco in una famiglia dove le emozioni non vengono minimamente considerate, avrò imparato a reprimere quelle emozioni che quando sarò emotiva non andrà bene, non andrò bene io e quindi eviterò le mie emozioni. Magari riconoscendomi a un certo punto della vita di essere estremamente emotiva e di non sapere cosa fare con quelle emozioni e di esplodere, di annegare dentro quelle emozioni e di giudicarmi profondamente perché le sento. Vi ho fatto degli esempi per comprendere che deve morire un ruolo a cui noi siamo emotivamente e affettivamente legati. Per questo sentiamo la perdita e il vuoto. Sembra di perdere qualcuno della famiglia, qualcuno di caro. Ma questo passaggio è necessario per poter riempire quel vuoto affettivo con l'amore che siamo noi dentro, che abbiamo noi per noi stesse. Ma dobbiamo avere grande coraggio per attraversare quella perdita. E quindi è molto più semplice rimanere legati a degli schemi con cui noi guardiamo il mondo, con cui noi reagiamo al mondo e con cui noi accusiamo il mondo di essere responsabili delle nostre reazioni, se non ci facciamo carico di tutto questo. Quindi la rottura degli schemi prevede inevitabilmente un senso di perdita al quale il nostro io non è assolutamente disposto a mollare perché vorrebbe dire cambiare l'informazione della tribù, della specie e quindi rischiare di far morire la specie, quindi rischiare la sopravvivenza. E quindi entrano in conflitto. Chi è in conflitto in realtà? Il nostro io e la nostra essenza che invece devono imparare a collaborare. Il nostro io e il nostro sé, possiamo anche dire. Devono imparare a collaborare. Noi non ci possiamo liberare del nostro io come non ci possiamo liberare della nostra ferita affettiva. Ma possiamo cambiare la nostra relazione con noi stessi e con le nostre parti conoscendoci, permettendo i processi, facendoci aiutare quindi nell'elaborazione, nello sviluppo di un'educazione è diversa rispetto al nostro interiore, rispetto a chi siamo veramente. E noi siamo diversi dai nostri genitori, da chi è venuto prima. E siamo diversi anche probabilmente da tutte quelle persone che aduliamo, stimiamo e che diventano nuovi modelli per noi. Ma stiamo sempre cercando la mamma e il papà. Ed è qui il punto di diventare adulti. Altrimenti saremo sempre legati e schiavi di quel sistema affettivo, di quegli schemi affettivi dei quali noi non ci vogliamo liberare perché sarebbe come lasciare un qualche cosa di conosciuto per quanto sia limitante e abbandonarci all'ignoto e quindi fidarci di noi stessi e della vita. Quanto è difficile questo? Nonostante lo ricerchiamo tutto il tempo. E quindi certo che l'io si inventa qualunque tipo di sintomo, gli attacchi di panico per esempio, gli attacchi di ansia sono tutti sintomi che indicano una scissione, un conflitto tra parti, il vecchio e il nuovo. L'io e il sé che ci chiama continuamente al ritorno a casa perché la vita tende all'anima, la vita tende al cuore. Per questo come possiamo non fidarci della vita? Anche se ci fa male, ma è proprio in quel male che ci fa, imparandolo a vedere con altri occhi, che noi possiamo tornare all'amore, pulirci di tutto ciò che ci separa, di tutti quei muri, di tutti quei freddi che ci hanno separato dall'amore, da tutti quegli schemi con cui noi vogliamo incastrare la vita a tutti i costi e invece la vita è fuori dagli schemi. E invece la vita ci vuole portare dove schemi non ci sono e ritornare bambini, come diceva Gesù, perché i bambini hanno assicurato l'accesso al Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli non è fuori, il Regno dei Cieli è dentro. E tornare ad essere come bambini e tornare a meravigliarci della vita e lasciare che la vita sia un mistero che ci conduce e svela davanti a noi le migliaia di possibilità con cui noi possiamo scegliere. Sono tutte a nostra disposizione, c'è un'intera esistenza a nostra disposizione e noi la combattiamo continuamente. Come possiamo stare bene? Come possiamo fidarci? Buona giornata. Buona giornata.